Ma sicuramente non è stato il debutto che sognavo, anche perché eravamo in difficoltà ed eravamo sotto 2-0, ma sono comunque felice di aver debutato con questa maglia. Tra le poche cose positive di questo pomeriggio, l'esordio con la maglia bianca-azzurra di Clemenza. Certo, assolutamente. Non è il debutto che sognavo, però sono felice di aver potuto fare qualche minuto con questa maglia. L'hai vista in campo e l'hai vista anche dalla panchina. Che cosa secondo te non ha funzionato oggi nel Pescara? Secondo me più che altro avevamo un giro di palla un po' lento, loro si riuscivano a piazzare e chiuderci tutti gli spazi. Poi è logico che sono stati bravi comunque nelle ripartenze e a mio avviso anche un po' fortunati nei due rigori. Ci si aspettava una prova diversa dopo la vittoria con il Cosenza, anche dopo il successo ottenuto a Udine con il Pordenone. Invece è arrivata questa prova piuttosto sotto tono da parte dei due compagni. Tu che hai visto per gran parte questa partita dalla panchina, secondo te cosa non è andato oggi? Ma come ho appena detto c'era un giro palla abbastanza lento, non siamo mai andati realmente in difficoltà ma appunto non siamo riusciti a creare delle belle occasioni nel primo tempo perché loro si chiudevano bene per il nostro giro palla un po' più lento. Però ripeto non è stata una gara proprio sofferta, sono stati bravi loro nel procurarsi due rigori anche un po' fortunati ma ci è mancato un po' il trovare gli spazi a noi. Tutti i calciatori naturalmente vorrebbero scendere in campo, qual è il posto che vorresti ritagliarti in questo Pescara? Io sono a disposizione del mister, a disposizione della squadra e qualsiasi sia l'evenienza io sarò pronto a scendere in campo. Venerdì si gioca con il Cittadella allo Stadio Adriatico, Pucciarelli è infortunato, Castanos abbiamo visto oggi è uscito per infortunio potresti, anche a causa di questi infortuni dei tuoi compagni, potresti trovare spazio anche dal primo minuto nella gara contro la formazione veneta? Ma io già da domani sono pronto a lavorare in campo, sono pronto a darmi da fare e poi la scelta è logica che verrà il mister, quindi io mi farò trovare pronto.